Benvenuti nel video dedicato alla tasca profilata classica delle giacche. Prendo come esempio un corpetto base di tipo C, clicco su Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato. Si apre questa finestrella che mi chiede vuoi usare la creazione guidata per questo nuovo progetto del sottotipo selezionato? Clicco sul sì. Mi porta all'interno del configuratore presente in TTCAD L3, la pagina che mi trovo di fronte è la pagina misure. Questo video è dedicato alla tasca profilata che ha come icona questa. Tasca su parte davanti o tasca su parte dietro perché la stessa tasca la posso creare sia sul davanti che sul dietro. Questo video è dedicato alla parte del davanti. Clicco sull'iconcina, mi porta all'interno della pagina. Questa pagina mi dà la possibilità di creare due tasche completamente diverse. Una è tasca applicata esterna o a toppa. C'è un video dedicato a questo tipo di tasca. Questo video è dedicato invece alla tasca profilata. Clicco sulla freccetta, mi si apre questa tendina. Qui trovo tasca tagliata sulla parte. Clicco perché questo tipo di tasca va a incidere il tessuto. Poi vado a cliccare su applica tasca di tipo, che sarebbe questo tipo. Mi si apre questo riquadro che mi dà la possibilità di cambiare sia la forma del sacchetto, la posizione, la dimensione e le rotazioni. Sulla parte grafica ho il davanti e esternamente ho un sacchetto tasca e un profilo. Questo profilo o filetto si chiama. All'interno del modello del davanti trovo la posizione della tasca. È in arancione più debole perché il sacchetto tasca è una cosa che rimane all'interno del modello. Qui in alto ho mostra quote tasca. Vado a cliccare sul sacchetto tasca esterno, vengono visualizzate le misure principali, quindi la larghezza e l'altezza. Se io abilito mostra quote complete tasca, in blu vengono visualizzati tutti i lati della tasca. Qui dove c'è scritto forma sacchetto, se io vado a cliccare sull'icona, mi si apre questa finestrella e io ho la possibilità di decidere quale forma del sacchetto tasca voglio utilizzare. Usiamo questo tipo 2. Faccio il doppio clic ed ecco qua che compare il nuovo sacchetto tasca. La posizione della tasca. Semplicemente cliccando sulla croce nella direzione che mi indica la croce, io posso spostare il sacchetto tasca. Con il meno a sinistra la tasca va a sinistra, con il più verso l'alto va verso l'alto, con il più a destra si sposta a destra e con il meno si sposta verso il basso. Con il doppio meno o il doppio più si sposta maggiormente rispetto che al meno singolo e al più singolo. Le dimensioni. Seguendo la croce, quindi la parte verticale della croce, con il più si allunga, con il meno si accorcia, con il più orizzontale si allarga, con il meno sempre orizzontale si stringe. Ho anche la possibilità di ruotare la tasca. Con il meno ruota in senso orario e con il più in senso anti-orario. Cliccando sullo zero me lo riporta all'origine. Ho anche la possibilità di aggiungere una patta. Cliccando qui in alto compare una nuova parte. Cliccando su forma patta si apre questa finestrella perché ho la possibilità di cambiare anche la forma della patta. Prendiamo tipo 2, faccio doppio clic e anche per la patta c'è la possibilità di cambiare le dimensioni. Questo riquadro in basso, questo, guardiamolo uno alla volta, misure fisse in centimetri, non è abilitato in partenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io questo modello, ad esempio di giacca, lo utilizzassi inserendo delle altre misure di partenza, circonferenza, torace, seno, tutte le misure le vado a cambiare, la tasca segue le misure, cambia in proporzione alle misure che io ho inserito. Se io invece vado ad abilitarla, misure fisse in centimetri, le misure che io ho dato rimangono fisse. Anche se io cambio le misure del modello, quindi del torace, seno, lunghezza, rimangono quelle che io ho dato adesso, in questo momento. La tasca segue il dritto filo del modello. Per farvi vedere questo vado ad applicare una rotazione, altrimenti non si vede la differenza. Se io non lo abilito e lo lascio così, quando vado ad appoggiare il cartamodello sulla stoffa, il mio dritto filo è perfettamente verticale. È questo, è come se fosse questa linea rossa. Se io invece vado ad abilitarlo, mi segue la rotazione che io ho dato. Perciò, ad esempio, se io ho un tessuto a righe, la patta seguirà le righe del tessuto, perciò va a mimetizzarsi. Adatta sacchetto a bordi? Riguarda solamente il sacchetto tasca e, diciamo, non questo tipo di tasca. Applica doppio filetto. Vado a disabilitare la patta e vado ad abilitare applica doppio filetto. Ecco qui, mi presenta due filetti, perché in partenza ne crea solamente uno. Se io ne volessi due, posso crearne due. Per ultimo, personalizza tasca a modo avanzato. Cliccando mi porta all'interno della pagina tasca. Questa parte iniziale è uguale al configuratore, ma se io vado a cliccare su modo modifica avanzata, ho la possibilità di andare a modificare ogni lato, ogni parte della mia tasca, spostando i punti oppure andando a cambiare il tipo di curva. Qui in alto ho la possibilità di andare a cambiare l'altezza del filetto. In origine l'altezza è un centimetro e mezzo. Qui io li posso andare a cambiare entrambi. Ad esempio, mettiamo un centimetro, un centimetro, poi vado a cliccare su applica e modifiche. Ecco qua che me l'ha abbassato, me l'ha portato a un centimetro. Faccio ok. Ecco qui lo vedo anche che sono diventati più piccoli. C'è la possibilità anche di andare a creare una seconda tasca. Questa si chiama opera su tasca A e qui nella tasca A posso anche creare una seconda tasca. Perché ad esempio se volessi creare una tasca, un taschino verso l'alto, ho questa possibilità. Tasca, lascio solo la tasca A. Vado in crea progetto. Così vedo quello che ho creato. Ecco qui, ho il mio sacchetto tasca e i due filetti. E sul modello del davanti vedo tratteggiato la posizione della tasca. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!